ok se ne va vero allora buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video this is sparta pov mayor mi ha tolto l'amicizia non è vero allora per chi non lo sapesse è arrivata la nuova stagione The Fourth United paradigma finalmente ce l'abbiamo nel pass e non dobbiamo ritornare indietro di un capitolo grazie mille bite bellissimo io lo chiamo tizio cromo sempre paradigma orso di scudo con dentro orso che gioca la play miascolo maranza quando è che possiamo parlare noi? ora ok ciao ragazzi in realtà paradigma era nel capitolo 1 eh infatti è ritornato ragazzi se volete seguire passate nei canali di il mio canale è quello di Roby ma io non ho un canale e neanche mayor e io sì non è vero se volete andare a fare una visita nel mio canale lo trovate su youtube e noi ci dobbiamo credere mi trovavo pesco bella no scherzo ragazzi in realtà mi chiamo 97x provate tutti i video di unboxing di iphone o telefoni molte recensioni e bella adesso ciao ok ciao ragazzi vi lascio il video ho stordito le orecchie a tutti gli spettatori stordisci le orecchie e il microfono in gola non sto là gli spettatori bravo bambino ammazziamo sto cavolo di araldo che sarebbe il blue watcher ma non si chiama blue watcher si chiama araldo mi raccomando non me ne frega io lo chiamo blue watcher non me ne frega aiaaa io non ho già più le orecchie basta mayor io l'ho preso dallo scorso mayor basta mayor basta stai facendo una figuraccia lo sai ok nessuno ti verrà cercare se solo uno di voi va a cercare mayor che fa queste stupidaggini lo ammazzo male cosa hai detto? cosa hai detto? ma cos'è hanno già ammazzato il blue watcher? sai che cosa hai detto sai che cosa ho detto no non ho sentito una ciolle come hanno già ammazzato non so più parlare non ho già ammazzato no no aiaaa bisogno di armi dobbiamo spaccare sto coso oppure no raga iniziamo a sparare alla regina delle cacate basta e comunque è meglio non bestemmiare durante i video vabbè perché se no mi ballano ok fai partire il video i lupi raga spariamo i suoi scagnozzi del cacchio sparate sparategli oh AR se magari io avessi un po' di colpi raga ho due colpi raga non sto capendo una ciolla dai c'ha pochissima vita quel tipio pensate al blue watcher ahi a me no eh oh lupo linfame porco schifo aia aia toccato il blue watcher mi uccide cura roby no vabbè perché così almeno se lo curavamo insieme andavo più veloce e ora avevamo già sconfitto araldo non ho più colpi grazie è morta raga non ho più colpi devo ammazzarla io comunque è mia l'arma ma io non l'ho vabbè possiamo fare la mia missione ok vai andiamo vamos e vabbè è logico che se mi infinisce il cromo ma adesso prendiamo un tornado cromos il cromatus il croman il cromo tornado il tornacro il tornacromo il torno il torno il torno d'alessio è che devo fare posizione alla anomalia ok devi andare in una base a caso ragazzi seguitemi seguiamo tutti i mei or il signor coyote non mi chiamiamo di chiamare non mi chiamarti cos'è scherzo dai ti chiami meglio hanno rebuttato bella la vita vai vai è già l'arma viola vabbè vabbè lasciamo listare andiamo alla missione blu blu povero quando i tuoi spettatori quando non dici niente ai tuoi spettatori non capiscono cos'è sto lumacone di pomo esatto è quello che stai facendo tu quindi parla allora 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 è un blog non un numero è la stessa cosa è però adesso stai iniziando a vestire tu e noi ho detto che è la stessa cosa porca macchina è la stessa cosa avete capito? e allora anche il blu watcher e araldo è la stessa cosa vabbè quello è logico però tu vuoi essere perfettino e dire che sei chiamato porca araldo lo chiamano così e e io lo chiamo come lo voglio chiamare io problemi? allora qua vediamo un esemplare di mayor coyote 907 che sta prendendo dei pulsanti sta attivando un tavolo e ci spara una droga questa droga si chiama cromatus ah quando siamo blob se ci teletrasportiamo facciamo diventare tutto cromo davvero si lado pem bellissimo e trapassiamo tutti i muri anche gli alberi proviamo davvero altri ordini no gli alberi no ma non possiamo raga che facciamo e cosa ne sto volevi fare in televisione e deve a dire che robbie è più bravo si becca uno cellino continuiamo la partita andiamo raga andiamo non mi ha cildino aspetta vai andate bene il dito in gola no è finito da un altro un blob sulla macchina ciao ah no riesce a fare le motte no no non riesco a fare le motte bella cacata sulla macchina è la macchina è un po' ribaltata ma si muore oh ragazzi guarda che vi dirò una granata se non mi è fermata ma io ce le ho già le granate ah beh io mi ho elevato con guarda ciao tira una granata cromo io eh ti ho distrutto la macchina ammettilo 22 al nemico no questo lo uccido io concentrazione time se ne venite a uscire sto basso ti amo riesce a venire da me tanto che se ne frega di me che se ne pote di me tanto oi tanto non non c'è un esistente in questo modo io ho 12 di vita e non ho tempo e non ho tempo porca vacca santa sto bot cazzo 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 le coppie basta meglio cosa basta meglio basta delle parolacce poi poi guarda che guarda che mi mi ho detto parolacce dici che dico parolacce poi hai detto ca nel venumese ma non ho detto ca hai detto ca no hai detto la c la e hai detto ca non è vero non è vero meglio rino coiutino secondo me questa volta non hai voluto dire l'insulto infatti non lo volevo dire sto morendo intanto la mia schiena non si muove da quanto tempo 5 ore bella ho sbloccato la pagina del della ho sbloccato la pagina della rosa leon in che senso pronto in che senso primo della giornata raga eh si devo andare ok ci sentiamo dopo dopo ritorno su fortuit ok raga io devo andare a dopo allora ci sarà una breve pausa ma dopo raga siamo ritornati che bello vero robertino roby non ha neanche un mouse e io con con lo spas faccio più schifo di qualunque altra persona quindi vado a prendere il mio pompa preferito tolgo il rampino riesco a prendere gli xp guarda che me li prendo anch'io no voglio prendermi gli xp voglio prendermi gli xp sono un dio t'ho preso senza il mouse e mirare aspetta che me aspetta se me lo fa fare ancora me li da paura c'è un po' blu perché perché si eh si vabbè incredibile perfetto almeno ha aumentato la velocità del mouse così almeno faccio la velocità del mouse ti è arrivato allora non hai capito il senso ah la velocità della tavoletta eh che è anche quella del mouse si ciao le in bot non è colpa mia madonna come ti ho lisciato basta sconstein bot incredibile uno senza mouse uno con il mouse appena l'hai detto ti ho chillato più volte quindi stai dire comunque ti ho no spammone sei uno spammone prenditi al massimo non mi fai cambiare prenditi al massimo leva in leva non mi fai cambiare le app ragazzi guardate speedrun aspetta robbie devo fare speedrun non ci capisco niente e allora che speedrun è ha salve spammone spammone stai spammando tu con il pompa stai zi eh quello non è spammone brah si si stai spammando oh madonna come l'hai schivata godo tantissimo si vabbè io mi sono messo la mira assistita però che bello sembra che sono meglio con il coso che con il mouse ma ti ricordo che non puoi costruire i muri ecco quello è un problema quindi farà zero build spammone con quel assalto e tu spammone con quel pompa esci to ce li ho già l'isci preso preso ti ho comunque killato più volte quante kill hai otto tu cinque giacono mi vuole far girare basta con quella assalto si ma tu vuoi girare la visuale a mille io no ho messo la sensibilità al massimo preso no io non è vero sì sì allora cosa fai sto cambiando cose ti posso sparare se mi spari ti tolgo l'ambicizio allora ora faccio le speed run mettimi lo stesso questo è un 6 non è uno 0 questo è decisamente meno ma come fai tu a giocare con il massimo se già la metà è straveloce facile no scherzato ho fatto 1200 perché non ho resettato hai resettato Robertino ti ho palesemente hittato non è vero bella anche a te sta dando pochissimo alla volta sì sì ma tu sai usare solo il pompa cos'è sta roba mi piace leva uso solo quello preso sì non è che adesso è una nuova cosa che prendi le persone in che senso ora ti prendi e ti metto nella cantina è là va là e scisca e babbo vai ti ho già partito con un edito no 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 tu hai colpito l'aria non è vero certo dici che io ho l'embo tu poi ti colpisci con tutti i colpi ah impari 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 bambino bambino Robertino piccolino bellino non ho colpito l'aria non ho colpito l'aria si dalla mia visuale ho colpito l'aria dalla tua dalla tua ma non dalla mia visuale adesso vado su GeForce Now e metto che posso che non muoio più ma che morisco così vediamo no ho preso ma costa GeForce Now domanda eh? ma costa GeForce Now cosa GeForce Now costa GeForce si però c'è anche una versione gratis e quanti giochi ti fa giocare in pratica quasi tutti allora me lo prendo scusa GeForce no c'è scusa così però alcuni giochi mi sa che erano a pagamento si già quando prendi la versione a pagamento sicura infatti ci sono anche le versioni con i giochi a pagamento cioè bello già non ti basta pagare 30 euro di GeForce Now ma anche di più ma tu c'è quello a pagamento gratis no ovviamente ti sembra che ho pago per una cacata mio papà usa GeForce Now a pagamento per giocare allora c'è una grafica assurda sì lo so il mio computer non può tenere quella grafica cioè il tuo sì ma il mio no vabbè il mio è da gaming ho capito però eh pensa che il mio computer fa schifo cioè cioè guarda cioè è di seconda mano è il vecchio di mio papà è anche il monitor però le tastiere no tastiere a mouse no aia si è spaccata una mano adesso spacca il computer oh non spaccare niente aspetta devo fare la dimostrazione che Alexa parla in corsivo Alexa parla in corsivo secondo me tutti i tuoi iscritti abbandoneranno il tuo canale solo per questa cosa ma te la smetti di nasconderti lì? no cacchio cacchio ah l'ho studiato e ora sono tra i migliori a luogna e ora io sono tra i migliori mutatori non mi hai mutato vero? no come faccio a mutarti mentre ti sparo? ah sarebbe una cosa d'acca ho crancato è andato si spami dai spami aggiungiamoci pure la minigun cosa ho fatto? è la minigun quella roba la minigun spara più lentamente ah 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 yes io ho saltato ho saltato e ti ho preso no ti ho colpito sotto eh ti ho colpito sotto ma io ho saltato eh ma c'era una parte del mirino che ti prendi e vai piedi impara a volermi sempre vedere non è vero ho fatto prima ora vengo in casa ti ammazzo so dove abiti non è vero e dove abiti sentiamo così lo scoprono pure i miei cosi no scusate raga lo scopro pure i miei gamer e basta non il mio indirizzo già d'alexa dove alex alex a dove alex alex a 104 in testa ci ha sto morendo male ho sparato prima io anche io ho sparato più male no no è in voto solo la mira assistita al 200 per cento e allora io al 300 miliardi perché uno senza mouse non può battere uno con il mouse uno senza mouse non può battere uno con il mouse invece può se si allena senza mouse ma praticamente sembra che sono meglio senza mouse cos'è sta roba vabbè è vero quello ok cosa è vero che cosa devo dire che sei meglio senza robie mi ha mutato robie che bello finalmente anch'io faccio come faccio ma no ti ho preso bambino bambino cattivo si vabbè tu che ti sei fatto lo scildone insieme agli scildoni Robertino Robertino è morto Cos'è successo? Cos'è successo? E' morto, è andato, ciao raga, questo video finisce qui.